Musica 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 1 Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un nostro primo video ha già parlato lo sentite e qua sotto io sono Xyude Bella ragazzi sono Nick con il nostro Nick 5 stelle ragazzi come stai Nick tutto bene? tutto bene tutto bene perché stiamo facendo un video assieme ragazzi abbiamo scoperto qualche una cosa incredibile una cosa incredibile che nessuno sa non si sa abbiamo visto Nick che oggi c'è stato praticamente l'update il mega update 4.5 che ha portato il parco giochi dove parco giochi in questo momento è down ancora praticamente ci sono dei problemi non so se lo sai però appunto abbiamo avuto dei problemi cosa è successo? su parco giochi praticamente parco giochi è totalmente down è sceso di nuovo è salito 5 minuti è ricrasciato proprio è ricrasciato perché proprio non ce la fanno i server ma per forza cioè non puoi mettere una minimappa da quattro giocatori parte l'ignoranza estrema non riesce proprio non ce la fanno io posso capire cioè posso anche accettare qualche bug sul carrello però mi capisci che se mi metti una nuova modalità che giocano in quattro la gente va fuori di meno esplode 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 tutto e quindi io ho avuto la fortuna di provarlo e quindi non si può giocare tu l'hai provato? anche io l'ho provato abbiamo provato insieme in live ragazzi però io non l'ho provato offline cioè insomma io non ho avuto la possibilità di più provarlo questa b beh guarda ti garantisco che è meraviglioso perché parte veramente un sacco di divertimento è incredibile questa nuova modalità è fighissima però mi dispiace un po' che è scesa qua in questo momento è un pochettino down però tra l'altro hai visto anche tutti gli altri update che ci sono nella mappa tipo ci sono modifiche ci sono un sacco di modifiche ragazzi all'interno della mappa abbiamo pinnacoli pendenti il razzo è sparito nella mappa non si vede più il razzo se noi notiamo nella mappa non si vede se noi notiamo la mappa non c'è il razzo ma io sai che non sono neanche andato alla base dei nemici perché stavo facendo io neanche però ho visto proprio nella mappa che c'era quindi le immagini erano vere quelle che abbiamo visto qualche giorno fa sì 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 era proprio il sì il leak e poi abbiamo visto anche che sta crescendo vegetazione a profusione stanno crescendo gli alberi da sottoterra lì dove ci sono stanno sputtando come i funghi te ne hai presenti i funghi ragazzi quelli sono gli alberi che stanno crescendo ma tra l'altro ho visto che hanno fixato il bug dove trovavi i funghi anche sopra le piastrelle sì sopra le piastrelle ma dove cacchio facevano questi funghi dentro c'erano i funghi in giro no ragazzi adesso noi stiamo ridendo stiamo scherzando ma l'argomento è molto molto serio Nick esatto vogliamo anticiparli cioè loro lo vedono Nick stiamo facendo passare delle immagini intanto in sottofondo esatto esatto perché quello che abbiamo trovato però ancora non sanno non sanno dì di qual è l'argomento di che cosa si parlerà ragazzi si parla del razzo il razzo ragazzi il razzo sappiamo già qualche cosa in più molto interessante gliela faccio vedere Nick vai mi raccomando un bel mi piace questo video ragazzi deve arrivare a 800 like almeno pensavo 800.000 visual mi sono un attimo illuso voi lasciate il like poi vediamo come va ragazzi guardate che cosa è stato scoperto nei codici sorgenti di Fortnite pronti? 3 2 1 pronti e loro dicono Nick e Xudor non siete fuori di me non si capisce niente voglio senso no ragazzi no ragazzi questo è nel codice sorgente è stato trovato questo dimmi cosa è quella roba Lini quella evidenziata esatto lì si dice rocket big bang ragazzi il rocket si schianterà sappiamo questo ragazzi sappiamo che il rocket finalmente non sappiamo dove però distruggerà qualcosa non sappiamo dove ovviamente però distruggerà qualcosa perché sopra già intravediamo che ci fa capire dove non dove ma che appunto si schianterà questo raggio non sappiamo ovviamente dove che dice sappiamo che deve distruggere qualcosa questo raggio e questo è sicuro non sappiamo dove però il raggio farà qualcosa lui diceva che distruggeva landeletali si diceva landeletali ma mi sembra un po' c'è landeletali ragazzi che sta durando dalla Pasqua del 71 o distruggono come era la primissima ipotesi della season 4 quando c'era il rocket dicevano distruggeranno a prodo avventurato era stato inserito con il capodanno cinese poi l'han dimenticato sarebbe una cosa brutta noi lo mettiamo poi dopo un mese lo leviamo via questo sinceramente io non lo so c'è da dire ragazzi che abbiamo delle chiavi di registro importantissime la più importante ve l'abbiamo evidenziata il rocket big bang e questo è incredibile tra l'altro il rocket si schianterà questo è poco ma sicuro ma tu c'hai qualche c'hai c'hai un suono ce l'hai o non ce l'hai suono di cosa un suono del razzo si 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 uno allora non dico tanto perché Nick c'ha delle cose uno ragazzi allora io vado in diretta insieme a voi nel video uno vado a trovare a prendere a prelevare a prelevare questa roba ah no scusi allora ragazzi c'è un po' di roba Nick allora 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 facci sentire che non l'ho sentito neanche io non l'ho sentito neanche io aspettare 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 perché c'ha tutte le cose un po' ambigue lui nel computer l'hanno salvato nelle cartelle quelle dei fai nascosti no perché c'è a sopra non lo sa neanche lui non lo sa dove ha scaricato le cose tanto mentre lui cerca noi abbiamo un force feedback actor quindi ragazzi come avevamo già visto e già detto ha trovato ha trovato sono tutti degli attori facciolo sopra ho trovato ragazzi ah se uno solo eh uno spoilerino si sente eh no io non sento niente ah quindi non c'è dimmi se si sente no non lo sento Nick non lo sento che cacchio è che non si sente perché non si deve sentire perché non lo fa niente non lo lasciamo come spoiler a meno che non me lo giri al volo su discord e glielo faccio sentire ma perché non si sente non si sente perché ci avremo già le cose aperte noi ragazzi stiamo provando per voi a cercare di fare le cose attenzione attenzione dice che 4 minuti e 38 ragazzi abbiamo un sacco di sound un sacco di sound pronti che ci dicono la partenza del razzo sta praticamente riscaricando sono 8,3 mega quindi dovrebbe dovrebbe ma secondo me non si sente parlo scorso di discord nel senso credo eh perfetto lui dice ragazzi io la posso no no dico perfetto perché la sto inviando su discord ah me la sta inviando su discord andiamo ad aprirla eh beh certo andiamo ad aprirla un secondo ragazzi scusate perché porca miseria se il nick me la manda io la devo andare a recuperare di prepotenza però non mi apre il discord ecco ora me lo apre un momento un momento vediamo se mi arriva sentiamolo assieme sta caricando sta caricando nick sarà connessione a criceti raga dimmi se lo senti dimmi se lo senti dimmi se lo senti non sentiamo nulla nick non senti nulla non sentiamo assolutamente nulla nick porca 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 vabbè fa niente erano delle avevamo anche degli audio ragazzi noi non ci portanto dovremmo fare altri video con il nickettino la cosa importante ragazzi è che non sappiamo quando ma probabilmente sarà il 9 luglio immagino alla chiusura della season il razzo si schianterà ragazzi il razzo parte ragazzi il razzo si schianta dove si schianta non sappiamo dove non sappiamo dove però si schianta però si schianta ragazzi scrivete qua sotto nei commenti secondo voi dove si schianterà il razzo vediamo anche qualche vostro opinione ovviamente ragazzi mi raccomando questo è stato il primo video dopo 2000 anni che ci conosciamo io e nick che abbiamo fatto insieme finalmente quindi va bene noi ci penchiamo sempre in live quindi passate sempre in live ovviamente raga posso approvare lo studio ci mancherebbe però nick importantissimo commentano qui sotto i ragazzi dove si schianterà il rosa dove si schianterà secondo voi vediamo anche un commento le persone cosa dicono ovviamente il commento più più iscritto ne riparleremo ne riparleremo esatto mi raccomando però vai iscrivete non ve ne scordate sempre lasciate un bel mi piace io ti ringrazio tantissimo per aver fatto questa collaborazione è stato un piacere grazie a te ma ci mancherebbe cosa mi hai mandato un bacio schifo no no ti va darlo qua ho sentito un bacio sentito un bacio così con le mani ringrazio anche voi ragazzi ringrazio per aver guardato il video nick io ti saluto grazie a tutti noi ciao ragazzi e noi ci vediamo al prossimo video ciao bella raga ciao